In mezzo a voi il grande maestro della tradizione di Carpini, il maestro Antonio Piccinino! Buonasera a tutti, come sapete siamo con i Carpini che fanno un grande popolare, un grande amore. Questi canti che noi facciamo sono tutte poesie, canti d'amore, canti che hanno un secolo di storia e quindi io, con i miei ragazzi che stanno insieme a 15 anni, porteranno avanti questa antichità perché io tengo 95 anni, se ci stanno avanti, se ci stanno avanti che è bene. Allora, prima che canti mi spiega la canzone, la canzone dice così, vedi che bella giovane mi hai capato, un ragazzo che scende una ragazza. Quando è bella giovane mi fa morire, la voca spalmanata quando parla e che le labbra inzù parate quando rire, lo spiglio di getello dallo sonno, che non ci dormo quando c'è mamma. Non ho letto di viola ce l'hanno fa, un ragazzo che l'hanno uscita di seta, un ragazzo che sono un ragamato. E la copertia di rosa viola, di rosa. Allora, a casa 9, i miei hanno tolto la porta, io mi hanno tolto la spagata dretta. Sono andato da mia moglie, hanno visto un po' a Malinconi, che è qui a pensare a mamma, non mi ha pensato mica tu. Sono andato da mia moglie, sono andato da mia moglie, sono andato da mia moglie, la città è proprio mia, abbraccio a chi non può parlare. Quando è bella la popa di pezzo, è padrone, tre città, quando cammino non ci spezzo, quando è bella la popa di pezzo. Quindi io canto, no? Mi spiego bene, però da parte vostra, dovete stare attenzione per capire la canzone, perché le canzoni sono belle.